Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo video dedicato alle pilole di efficacia fiscale, dove condivido con te le soluzioni fiscali che propongo ai miei clienti imprenditori che hanno un SRL. Con te voglio oggi condividere brevemente una risposta che darei agli imprenditori e effettivamente a una domanda che ogni tanto mi fanno, perché magari vanno a ricercare su internet e scoprono e notano che le società di tipo industriale, o comunque meglio le attività di tipo industriale, ossia in un certo senso le industrie, chi produce i bulloni, chi lavora con le macchine a controllo numerico e così via, ossia queste tipologie di attività, ecco che lì sopra il socio dell'SRL non paga i contributi IMSS commercianti, o comunque leggono che non pagano i contributi IMSS commercianti e quindi mi fanno una domanda di questo genere qua. Simone, ma se io svolgo un'attività industriale, col codice TECO, oggetto sociale eccetera, io non devo pagare i contributi IMSS, giusto? E di fatto potrei dire che la risposta a livello concettuale e teorico è così, ossia quando noi siamo imprenditori con un SRL e svolgiamo un'attività industriale, non dobbiamo pagare i contributi IMSS commercianti e questa cosa essenzialmente implica che prenderemo una busta paga da dipendente e diciamo l'altro piccolo svantaggio in un certo senso di essere industria è che comunque ci sono più tendenzialmente contributi tra IMSS e IMSS in sostanza, quindi il carico contributivo sui dipendenti è un po' più alto, però effettivamente il vantaggio di non essere un socio che paga i contributi IMSS commercianti è un vantaggio molte volte non da poco. Però detto questa cosa qui, che è la legge e della verità eccetera, c'è anche da dire che l'ente ovviamente cerca di evitare tutte le volte in cui noi imprenditori utilizziamo questo strumento alla fine solo come unico motivo per evitare di fatto l'IMSS commercianti e bar artigiani, ok? Perché questo? Perché effettivamente più noi in qualche modo, faccio un esempio, apriamo un SRL con codice teco formale, atto costitutivo, oggetto sociale, sempre quello però sempre formale e di fatto io magari sono socio unico e di fatto quella è un'attività più artigianale che industriale, tendenzialmente non dico tutte le province insomma territoriali competenti IMSS, ma qualche provincia potrebbe effettivamente contestare questa cosa e quindi tendenzialmente aprirti una posizione d'ufficio IMSS per quanto riguarda l'artigianato in questo caso, cioè IMSS artigiani, ok? Sostenendo appunto che la tua attività in realtà non è un'attività industriale in quanto magari non hai dipendenti e di fatto tu sei l'unica persona che ci lavora, ok? O comunque l'attività per davvero è una cosa artigianale. Quindi secondo me in sintesi si può concludere affermando che quello che diciamo il principio in cui noi siamo diciamo attività industriale e quindi come soci di un SRL non paghiamo l'IMSS commercianti questa cosa è vera, perfetto. Però a maggior ragione siamo più protetti nel momento in cui magari abbiamo determinate attività con capannoni e vari dipendenti, ok? In quel caso l'IMSS effettivamente avrebbe poco da contestarmi, ok? Più invece dall'altro lato cerco di utilizzare questa regola semplicemente solo con l'unico fine di non pagare l'IMSS artigiani e magari più non ho dipendenti perché magari sono soci unico e l'attività effettivamente può essere qualificata anche come attività artigiana, ecco che tendenzialmente anche se l'IMSS non può e comunque ci apre una posizione d'ufficio, questa è una cosa su cui ai miei clienti gli direi di mettere un po' l'attenzione perché è un'eventualità che può capitare, ok? Perfetto. Detto questo ricordati che lo strumento dell'attività industriale è uno strumento di risparmio fiscale che ovviamente ha vantaggi e svantaggi e va calibrata in una strategia fiscale specifica per te. Se vuoi ulteriori informazioni fiscali gratuite sul come ridurre le imposte e contributi grazie alla tua SRL puoi andare sul sito www.efficaciafiscale.com e scaricare un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che puoi utilizzare grazie alla tua SRL. Detto questo ricordati che puoi avere una consulenza gratuita con me, penso di averti detto tutto e quindi noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!